Bentornati qua di nuovo su Chiariamoci, bentornato Andrea di nuovo. Ciao Chiara, ciao Chiara. Ringraziamo come sempre Dan John che mi sembra giusto. Stiamo lanciando che c'è questa possibilità. Esatto. Procediamo insomma all'analisi adesso poi generale e poi come facciamo sempre un po' ai singoli gironi di questa quindicesima giornata. Allora e diciamo pochi rigori e soprattutto alcuni contestati che non ci sono stati in mia nel caso della tante da Juve Stabia col Catanzaro che Catanzaro insomma è andato un po' su tutte le furie per questo. Pochi rigori e la domenica era piena di rigori, la domenica pochi, si vede che il paro non ha appassionato, hanno un po' di equilibrio. Sto lo so hanno seguito, sai che purtroppo anche, almeno così dicono le società, le società che gli artisti non sono al livello delle squadre. Però è anche vero, io non voglio specificare la terna arbitraria, però parliamo di terecci e quindi pure gli artisti. Anche perché, attenzione, pure in serie abitiamo anche inserisci, quindi il livello, non lo so, forse l'errore sta proprio nel fatto che il gioco è troppo veloce, Magari, come dico io, l'arbitro è passato. Anche la solita assenza del VAR comunque sta sempre all'area. Eh sì, l'arbitro è passato, dovrebbe stare a monitor, l'arbitro è passato dal monitor, penso io una rivoluzione, perché non ce la fanno proprio. Esatto, diciamo che il problema non è tanto degli arbitri, ma secondo me viene dai modi della Lega, che comunque è il giusto, se si parla di professionismo, a parer mio il VAR deve esserci, quindi... Siamo una Lega che poi un pochettino sta un po' in confusione, perché sembra che in tutti i casi si farà sta riforma, forse non si fa, non hanno molto bene dei chiari che succede e abbiamo visto il confronto, è uscito l'articolo interessante e poi sono in quattro ore che parlava del fatto che le squadre di Mingiterra si tassano per aiutare le squadre di Teresecili. Ogni anno gli danno mentre i 39 anni 30 milioni di euro s'ass veränderti per ilerogio Delacolo 150 euro di un escola di Strasso. non lo senti tanto esatto ma i rifiuti non saranno contenti però la Sarici potrebbe far bene perché tra la possibilità come in Inghilterra poi di creare una sorta di divaglio esatto no serve comunque un sussidio io dico la cosa per i ragazzi giovani io penso la cosa quello che dico io è che se esistono queste idee parte da altri stati altri paesi possono essere intelligenti no perché non seguirlo io concordo con te comunque andrebbe preso un attimo le parti buone ecco di quello che è il calcio fuori dall'Italia però non capisco in realtà cioè forse questo essere ancorati all'idea tradizionale del calcio qua in Italia poi non lo so poi se l'Inghilterra lo ha fatto c'è una tradizione calcistica come quella italiana storica sì sì esatto replicarlo non sarebbe un marco poi anche di facile attuazione no perché secondo me fare un milione per una squadra grande è sicuramente un problema in questi tempi che non vogliono far pagare però come paghi un giocatore conosciuto un 2 milioni potresti versare una cassa di un buone e poi distribuire le squadre anche perché il problema diciamo di i soldi che mancano alla Lega Pro è abbastanza evidente quindi una soluzione va trovata secondo me la soluzione non è di certo in questo ecco il minutaggio under che rincara le casse della società perché così facendo che fai con tutto rispetto non me ne vogliano gli under ma un po' vai a rovinare tra virgolette quello che è il professionismo nel calcio a parere mio quindi nel senso il sussidio andrebbe cercato altrove altre soluzioni o seguire altri modelli certo certo ma non questo che stanno attuando adesso a parere mio non è questa la soluzione mi sembra che è anche falso come dicevamo pure le torti del campionato sì ma è vero quindi oltre questo aspetto diciamo dei rigori dell'arbitrazzo Andrea appunto ricollegandomi un po' a questa cosa che stiamo dicendo ecco tante tante società diciamo tante insomma in vendita c'è la vendita da alcune società di proprietà lo diciamo dall'inizio tutta la serie C ora si parla di Sestena Acquirenti americano extra propatria altre acquirenti tutti acquirenti comprono tutti vendono tutti forse in chiese anche la tutte notizie rumor poi si concretizzano non si concretizzano però questo fatto che tutto si vende e ci sono degli acquirenti vuol dire che c'è invece del mercato di giocatori c'è un mercato di società poi non lo so se le chiede il signore sono infiniti ci sarà pure un motivo perché in fondo uno dall'America viene e compra una squadra di serie C non lo so motivi personali affetti amori questo bisognerebbe chiederlo poi a chi fare operazioni certo sicuramente qualcosa di uno strano c'è personalmente sono contento lo dicono noi però sono magari importante che magari portano nuove idee no questo però dall'altra parte quelli che lasciano sono gente che comunque si è cresciuta nel calcio certo quindi stimoglia il fatto che così non può andare avanti certo ribadiamo il concetto appunto detto poco prima ecco magari così non si va avanti escono nuovi magari vogliamo trovare qualche evoluzione venga anche per il mondo va bene passiamo poi queste cose passiamo all'analisi di questi girone ecco passiamo dal gironea da un bel po che non è più capolista il padua ma troviamo questo il girone ha pareggiato colperato salò diciamo grande soddisfazione del padua con la vittoria a piacenza di avvicinato però ti roll ha pareggiato con una concorrente diretta per cui fare al pitalò poi diciamo pareggio giusto non è però in realtà questo conferma il fatto che tu ti roll mira con l'ultima e come dico io attenzione al match padua su ti roll perché esatto perché qua vedremo un po la verità se il ti roll passa lo scoglio come era lo scoglio della pera di salò allora poi ti ricordo dicevamo non puoi fare una campagna più importante quindi credo che ci credi sì sì anche portiere su ti roll insomma sembra giusto citarlo perché si va ha fatto una parata straordinaria però che il movimento c'è sono ben decisi non lo so credo che possono poi vediamo padova che sorprende però che il secondo posto non c'è il padova è preso da Renate in questa è una favola meravigliosa ragazzi che si divertono non hanno nessuna pressione l'obiettivo è andare avanti per arrivare il risultato possibile divertono Renate che sarà una mina vacante nei playoff perché comunque è una squadra così è una squadra brutta da incontrare certo abbastanza imprevedibile imprevedibile quindi gioca un calcio bello diverto poi sai che diciamo noi abbiamo la fortuna anche di avere rapporti quindi c'è pure l'euforia del fatto di poter cambiare mai non me ne voglia di così di Renate però sai i giornali no possibilità quindi il ragazzo è più caricato no sicuramente quest'anno poi il secondo attacco d'Europa queste storielle che escono prima in Italia però ti portano sui giornali no certo secondo attacco pari alle mandoschi che sono cose fantasiose però che rendono fanno felice fai sui giornali ragazzi è stato lo sport per lo sport questo poverini non ci vanno mai tanti non sanno neanche di di però queste con di quindi Renate è ottima realtà che possa andare per vada avanti non non per lottare però secondo te Andrea ora ti faccio una domanda ma il Padua psicologicamente come si sente a stare in questa terza posizione visto che la sua abbinzione era di rimanere primo posto in questo è vero che l'undicesima giornata è tutto recuperabile per carità insomma la classifica può spostarsi però io credo che la partita su Tirol è decisiva partita partita su Tirol se non vinci non so se non vinci se vinci quella la vedi decisiva Andrea ma sì malagulatamente perdi è dura poi dopo sai stanti anche perché la sfida è un po' su Tirol anche se per artitalotici sono pure loro può darsi pure poi sì sì no assolutamente come detto la classifica finna è breve quundicesima giornata una partita che vinci anche perché tutte le squadre la Feralpi è la più che ha chiesto molto molto solida dice Andrea molto solida soldi però gente che con il lavoro proprietario non avrebbe nessun problema a costruirsi a sbagliare con la realtà però che lavora quindi non è come rimanare giustamente chi lavora chi magari ha avuto opportune però per altri toglie che hanno questo girone a vedremo questo generale diciamo un po' il lecco sorprendi il negativo ecco questa sconfitta col Trento ecco allora il lecco la situazione è una situazione abbastanza ridicola il proprietario vuole mandare non parla con l'allenatore il direttore sportivo e ti ha cacciati però non li caccia via perché ti devono dimettere quindi allenano ma il proprietario non gli evita la situazione anche del proprietario dell'eco è un personaggio numero uno dice c'è un po' di squilibrio ma sì è un proprietario non hai puoi mandare l'allenatore puoi pagare dopo poi questo ne risentono anche i ragazzi in campo ovviamente l'abbiamo capito che è importante quando un presidente è caotico passiamo andiamo andiamo al giro nel B e qua abbiamo un Cesena allora ancora qui mea culpa nostro Modena Superstar si sta riprendendo è vero facciamo che fa una lotta da Reggiana Modena bravi vediamo è chiara quello che vediamo non è stato di certo come non è stato previsto quindi noi abbiamo quindi è stato disastroso poi benvenga insomma anche perché ha fatto buoni investimenti no no si da nuova quindi no noi diciamo quello che vediamo esatto grande Modena Reggiana che comunque tiene il passo quello attua anche qui molto molto bello che poi diventa terza anche qui siamo reggiana Modena in teoria favorita sulla Reggiana come in me però Reggiana che comunque è in me una lotta poi certo possono anche interi realti grande delusione dell'Ancona ancora si si è affermata Renata Lancona si è affermata si è renata non basta più diciamo la nostra grandissima amica Roberta forse non basta più l'euforia no forse bisogna mettere i piedi in mano a altre cose magari con il mercato di gennaio a parer mio qualche acquisto magari di ragazzi un po' più grandi un po' più di esperienza l'Ancona è una squadra molto giovane avevano tutti ce l'avamo illusi perché poi sembrava che il pubblico potesse bastare non basta più no esatto diciamo che quello che è l'atteggiamento l'approccio non è ovviamente sufficiente quindi magari con un mercato di gennaio chissà magari non si riprende il Tescara invece Andrea che mi dice so che Siena Pescara hanno generato Poverino hanno generato Gilardini che a proposito di Siena Siena poi è stato dato a questo super mister a portare in Serie A però ha perso a Lucchese questo per carità però il Siena era quello questo genera quello che tratti ma non ha una squadra pronta per cantare in Serie B perché poi ricordiamo che è stato ripreso dalla Serie B ha perso con il Trastevere che abbiamo messo la componente economica perché lo Pissana si è ritrovato in Serie B e giocati con la Stavere qui a Roma poi esatto si è ritrovato non per meriti sportivi ma solo per questo l'abbiamo fatto analizzato una delle prime puntate ieri a questo sia chiaro dalla Pescara di Presidente dice Massima di Diciamo che non è Pescara che ci aspettavamo più che altro insomma e credo che comunque la gente e poi nel girone Pice abbiamo la tua vita attesa infatti che ho grande felicità finalmente arriva questa vittoria con il Gubbio ok una cosa devo dirla però che non è a favore molto della mia intervista diciamo che il Gubbio è una riformissima fuori casa il Gubbio ha davvero difficoltà a vincere quindi un po' me la aspettavo questa vittoria che non lo so però il dubbio però a favore della vita il Bess devo dire che ho visto un approccio diverso ecco Volpe insomma ha dato il suo grande contributo è forte pressione comunque sai bene che la vita è da andare in tipo assolutamente investimenti persi certo certo però questo è l'approccio giusto quindi finalmente è uscito questo atteggiamento ecco quindi il Giro del B è abbastanza però è lungo vediamo qualcosa di pubblico io ho una mia idea un po' sul Giro del B Andrea non so se sei concordato oltre le prime squadre che abbiamo citato che sono Modena Reggiana Cesena il resto un po' se la giocano le altre è solo una questione magari forse di atteggiamento perché alla fine ho visto ecco vedendo le partite vedo il livello circa è questo anche le rosa quindi è tutto possiamo dire una cosa hai ricordato bene il Cesena Cesena grande rivelazione Cesena ha giocato bene Viali che era un allenatore ha avuto un miglioramento assurdo io ho visto il Cesena Rocchi era una squadra completamente diversa ha avuto una ripresa complimenti perché Viali che è considerato l'allenatore un brocco tra un ragazzo bravo preparato ci mette la faccia con quello che ha un ragazzo che insegna sempre un nostro amico però c'ha poco materiale però riesce a fare risultati i ragazzi ci credono e poi c'è un fantasma c'è un pubblico spettacolare Vabbè il Cesena diciamo che è una storia c'è là comunque è una storia e non solo ma i ragazzi stanno vicini bravo tra gli architiposi però poi c'è comunque lì è una bella lotta modena regionale la stessa regione di Sideri diciamo ma siamo alla C ah la C qua c'è il Bari capolista il Bari il Bari ha vinto fuori il Bari ha vinto fuori casa ha segnato anche Fucci che un giorno ha criticato un altro un giorno che è quello quindi inutile criticare ci credi a questa fuga del Bari in via questa poi al Bari ci chieda perché il genere non c'è niente c'è il Palermo c'è il Palermo però pure il Palermo non lo so questa ripresa un po' all'ultimo dice fuori casa non mi sembra tranquillo però sai che succede quando si alternano le pretendenti dietro prima era il Catanzaro poi era il Palermo esatto diciamo che non sono molto certe quindi non c'è quel purtroppo ho capito come avevamo detto Lavellino 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 deve dare sai vittoria 1-0 non me ne voglio che mi chiedere Timo ha vinto due partite però ancora non è chi convince proprio quindi la dimostrazione che sta là non basta una vittoria per ammira l'idea di andare in per fare un percorso assolutamente probabilmente per una direttamente in B forse potrebbe essere troppo tardi e tutto è possibile però mi sembra che il Bari quest'anno la sua fuga forse la sta facendo anche perché fuga è che mancano di ricorre c'è continuità esatto Catanzaro che ha l'allenatore dicono il Bari è Calabro sì che poi verrà rotti tra l'altro quindi il Monteroso ci sarà lui conosce già il campo abbastanza accreditato non lo so dicono che rispetto a quello che ha sta facendo poco e quindi un girone così Catania che si è uscita da solo non basta che lo moro che si è volevo dire un po' della sorpresa forse di questo girone che è la Turris che sta sorprendendo un po' tutti la Turris allora io a quanto pare informazioni di questo rapporto collaborativo tra Atalanta e Turris in realtà se parliamo di voci così diretti però dovrebbe essere vero molto spesso gli imponenti dell'Atalanta vada in realtà penso che gli faccia bello un po' un'Atalanta impostata come Atalanta sappiamo quello che è l'Atalanta presto speriamo ovviamente cosa che può fare altri migliori e quindi credo che questa sinergia magari non di proprietà ma di preparazione stia facendo bene no? ma che sia una società solida e soprattutto i ragazzi in campo i risultati li ottengono in modo costante noi che abbiamo alti e bassi continui ecco io cosa bene io credo una cosa io non so quale sia il rapporto l'Atalanta però sai comunque per un ragazzo che gioca in serigli sapere che sta sotto osservazione costante certo io quello sprono in più dice Andrea è certo perché no anche mettersi in forza sì sì assolutamente sapere qual è un po' il tuo canale certo hai la possibilità che magari non so se giochi bene l'anno dopo quando si sarà a perdere c'è un altro tipo di esperienza no? ragazzi sono maggiormente stimolati e poi la turist in realtà mi facevano notare i ragazzi ha questa capacità che gioca proprio l'unità faccio i cambi per far giocare quelli che si deve valorizzare però non è condizionale e questo è un vantaggio ho visto anche l'età della media rosa che non è molto bassa anzi ragazzi abbastanza grandi ragazzi che stanno facendo esperienze cioè gente che magari potrebbe avere quella possibilità saltranno di provare sì assolutamente no l'ho visto giocare a Rocchi quindi posso gioca poi giocavano compatti ma non si prendono mai no no tipo l'Atalanta si si posso come l'Atalanta l'Atalanta quando vuoi il vantaggio non cambia il gioco guatti non è che si vede questa capacità di attività poi la garantitiva l'Atalanta giocare indipendentemente mentre le altre squadre hanno un vantaggio top l'Atalanta non soffre mai un vantaggio è un gioco uguale poi recupera anzi molto spesso importantissima questa se non fondamentale va bene mi sembra che insomma i gironi abbiamo manalizzato scoprimo tutto vediamo gli sviluppi un campionato di vittime molto bene poi adesso c'è anche la Coppa Italia domani giocano alcune squadre posso c'è un punto padova con la Viterbese è una grande Coppa Italia dove esatto si dice di giocarla vabbè allena Viterbese perché bambini ognuno prova giustamente non gli interessa certo come è anche a livello psicologico squadre ecco quest'anno magari nella posizione Viterbese magari vincere una partita della Coppa Italia fa bene ecco per un fattore psicologico gioca a Padua o a Rocca no no a Padua a Padua bella trasferta poi dopo a Reggio ecco diciamo che la Coppa ha un po' questo svantaggio un po' per tutte le squadre è un grande investimento ma questo già avevamo analizzato insomma dove vieni se fosse data la possibilità di vincere la Coppa di andare direttamente in semifinale infatti il regolamento è stato molto contestato perché magari la zona vincere la Coppa non cambierebbe esatto le squadre sono più incentivate perché tante squadre parliamo chiaramente tendono a perderla la Coppa per non avere quella spesa in più magari se tu vincetti la Coppa Italia e la possibilità di avere un bonus per il campionato di 5 punti si può cambiare la stagione certo esatto lo stimolo e l'incentivo per le squadre certo però stai va bene allora quanto diciamo facciamo un pochino quanto a noi possiamo annunciare che presto collaboreremo con il per me esatto a differenza dei led noi siamo a differenza dei led presto riusciremo portiamo avanti un progetto di ragazzi criptovalute poi ci spiegheranno accenniamo si si mi teremo qua e ci spiegheranno bene questo noi siamo un pochino pazzerelli ci accontentiamo di letta andiamo siamo innovativi Andrea siamo innovativi ormai la serie C da 15 anni capirà che ci sono i criptovalute mai dire mai e ormai facciamo anche piccolina noi della serie C ma si sta però questo è comunque un pochino l'idea nostra i ragazzi quello di cercare di fare qualcosa di diverso portare novità poi come sempre ci copieranno quello è un classico ormai è un classico non mai siamo abituati a questa puntata questo lo sappiamo però siamo abituati noi siamo abituati a essere combattiamo ma siamo pronti a tutto siamo di tutto va bene grazie Chiara di tutto grazie a te Andrea allora vediamo a tutti a seguirci come sempre su YouTube Instagram e anche TikTok un'altra cosa se quando saremo pronti vi avremo la notizia che capita quella classica intervista intersemanale siamo sì sì va bene ti ringrazio gentilissimo anche perché noi ci parliamo di servizio in trasmissione siamo la novità totale va bene grazie a tutto Chiara grazie a tutti quelli che ci seguono anche l'altra volta come sempre bravi grazie grazie proviamo grazie poi siamo sempre aperti a nuove idee insomma qualsiasi suggerimento noi lo accorgiamo ma questo è tutto dire abbiamo la porta da parte dei tifosi insomma ci fa piacere abbiamo aperto anche la porta ai figurini non tecnologiche però insomma apriamo a tutti va bene grazie grazie ciao grazie